Non sarebbe di origine dolosa il vasto incendio che si è sprigionato ieri pomeriggio nell'azienda agricola Coter di via Cascina Portico ad Azzano San Paolo. I vigili del fuoco del comando provinciale smentiscono le dichiarazioni di Giuseppe Coter, proprietario dell'attività. Tuttavia le cause d'erogo sono tuttora al vaglio dei pompieri. Possibile nonostante il parere contrario del titolare che abbia avuto origine da un cortocircuito. L'allevatore aveva appena terminato il consueto controllo pomeridiano nella stalla quando la moglie ha notato un principio d'incendio proprio nel capannone all'interno del quale era contenuto del fieno. Tempo pochi minuti il fuoco si è esteso al resto del materiale, circa 3.000 balle e così si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri provenienti da Bergamo, Romano, Gazzaniga, Madone, Oriol Serio hanno lavorato per tutta la notte per domare le fiamme. Le operazioni sono proseguite anche oggi, ingenti i danni alla struttura di oltre 200.000 euro. Fortunatamente il bestiame, 150 mucche in tutto, è stato fatto evacuare per tempo. Secondo il proprietario dell'azienda agricola, le fiamme potrebbero essere state appiccate da terzi. Nell'area in cui ha avuto origine, Rogo ha spiegato, non erano presenti cavie elettrici. Difficile dunque pensare ad un cortocircuito sul caso, indagano i carabinieri di Stezzano.